Nasce nel cuore della città di Quarto uno sportello anti-racket e anti-usura. L'iniziativa parte da una chiesa, la più antica di Quarto, la Chiesa Santa Maria Libera Nossa Scandalis in Piazza Santa Maria, luogo che ospiterà lo sportello. Dunque, in un paese che da mesi è nell'occhio del ciclone per le presunte connivenze tra camorra, politica e imprenditoria locale, la Chiesa scende in campo contro il racket e l'usura, grazie all'impegno del parroco Don Vito Zekkone e dell'associazione anti-racket SOS Impresa, con Gigi Cuomo. Uno sportello che vuole essere una risposta alla domanda che, soprattutto nell'ultimo anno, è diventata pressante. Sì, è una risposta, soprattutto a una domanda. La Chiesa deve rispondere, è bisogno alle domande fondamentali, ovviamente. Sul territorio di Quarto, da qualche mese sicuramente, si è fatta luce una domanda in maniera un po' più esplicita. C'era anche prima, ma era molto più in erba. E la domanda è una domanda, è possibile un contesto di significativa legalità anche nel nostro territorio. Martedì prossimo alle 17 ci sarà l'incontro inaugurale dello sportello della legalità, che per il momento resterà aperto un giorno a settimana, il martedì dalle 17 alle 19, e che sarà il punto di riferimento per tutti quegli imprenditori vessati dal pizzo. Chi nel proprio cuore, anche se spaventato, possa avere il desiderio di qualche cosa di meglio, per esempio di un'attività libera dalle ganasce, del pizzo, di altre cose, possa avere un riferimento. Ovviamente non basta lo sportello, occorre una mentalità, occorre un lavoro. Appena un anno fa, nell'ambito dell'inchiesta polvere che valse alla città l'appellativo di quarto connection, furono emesse circa 40 ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di presunti affiliate al clan del boss polverino. L'ordinanza che accompagnò gli arresti delineava un quadro raccapricciante della situazione quartese. Si parlava di imprenditori pestati a sangue per convincerli a pagare tangenti, ditte obbligate a cedere parte dei guadagni o a comprare calcestruzzo dalla camorra. Gli stessi festeggiamenti, in onore della patrona di quarto e di concerti in piazza, diventavano occasione di richieste estorsive da parte della cosca degli amici del Bivio, alleati dei Longobardi Beneduce di Pozzuoli e dei Sarno. Episodi annotati dai carabinieri, registrati in un'intercettazione telefonica, ora gli atti precessuali tra Roberto Perrone, oggi collaboratore di giustizia, e Salvatore Liccardi. Una comunità dunque quella quartese che va rieducata alla legalità e difesa dal pizzo. Certamente le inchieste della magistratura hanno dato la spinta perché questo si potesse realizzare, ma noi sappiamo per sicuro che non bastano le inchieste della magistratura, occorre anche la coscienza civile, il risveglio della socialità come punto di comunione, il lavoro, ecco, in maniera molto semplice, sul territorio. Lo sportello, diciamo così, è proprio come una finestra per dire che c'è una possibilità, presuppone un cammino, presuppone un lavoro, ma anche qui è possibile fare questo. Grazie a tutti.